L'Urde è diventata un po' una Disneyland della pietà, vedete, negozi a destra e a sinistra. Se ne è accorto anche il Papa che ha richiamato a una maggiore religiosità. Una volta le offerte al santuario erano consigliate, ad esempio dei ceri che tu accendi, erano un'offerta così, adesso ho visto che ci sono dei prezzi proprio sopra. Qui vendono le candele, questa viene 6 euro, queste invece che sono un po' più grandi vengono 10. E chiaramente se non hai soldi che esce puoi sempre pagare con la carta di credito. Per quadrare i conti adesso si cerca di fare soldi su tutto. Chi ha un tariffo per le messe? Sì, sì, l'offrante consegna per le messe è 20 euro. 20 euro, ho fatto dire una messa per mio padre, questa è la ricevuta, vi ringrazio la vostra offerta per la celebrazione di una messa. Monsignor Rorò è stato mandato qui dal Papa proprio per sistemare le cose. Per il Papa i santuari e il santuario di Lourde è una cosa molto importante. L'economico deve essere al servizio della pastorale e la pastorale che deve essere il centro della preoccupazione. Basta attraversare la strada e c'è tutta questa sequenza di venditori di salomir. Cosa vendete di più? Bottega. Le bottega? No, le bottega. Ma non c'è l'acqua. E se a voi da rompire? Io sono 20 anni che vengo a Lourde, bene o male il business qui a Lourde c'è sempre stato. Metti che uno si voglia fare la cappelletta e qua ci sono le statue adatte. Con 6 milioni di turisti all'anno, Lourde è dopo Parigi la città più visitata di Francia e ogni turista è stato calcolato, spende circa 40 euro proprio in ricordini da portare via. Se fate un conto, 6 milioni per 40 euro è un tesoro. I negozi fuori si sono molto preoccupati perché hanno letto questa cosa come un attacco anche a loro. Il negozio deve essere anche al servizio dei peregrini. L'importante sono i peregrini, l'accoglienza e i ammalati. Eccoci qua. Allora, ora abbiamo cambiato pagina e ci chiediamo, ma... Perché, dunque, il Papa, Papa Francesco, ha detto una cosa. A seguito delle verifiche, desidero comprendere quali ulteriori forme il santuario di Lourde possa adottare, oltre a quello che fa già, per divenire sempre di più un luogo di preghiera e testimonianza corrispondente all'esigenza del popolo di Dio. E poi, in altre occasioni, ha detto che non dobbiamo fare in altri santuari, non dobbiamo fare che diventino luoghi di commercio, ma che rimangano luoghi di fede. E allora, di questa cosa qua, ne parliamo con Mario Di Nolfi. Benvenuto, Mario. Ciao. Pippo Franco, benvenuto. Grazie di essere qui con noi. Don Patrizio. Giuseppe Cruciani. E collegato da Capraia, Paolo Brosio. Ciao, Paolo. Buonasera a tutti, ciao. E da Brescia è collegato Monsignor Sgarbi. Allora, Sgarbi, Monsignore, mi rivolgo a lei per primo. Mi fate vedere Sgarbi da qualche parte. Ecco, senti, cosa ne pensi di questo fatto che il Papa ogni tanto interviene su questi luoghi di culto, diciamo, insomma, vedendo di moderare su Meggiugori, insomma, ancora la cosa dei miracoli non è sciolta. Sull'Urd si preoccupa che non diventino luoghi solo di commercio, eccetera. Che ne pensi? Che effetto ti fa? Lo dici a me, Vittorio Sgarbi? Sì, a Monsignor Vittorio Sgarbi. Io per la verità, dal punto di vista della dimensione immanente, quindi non mi occupo di Dio e delle apparizioni, non sono scandalizzato da questo mercimonio. Certamente il Papa, che ha una spiritualità superiore alla mia, ha più velocità di me. Io trovo normale che ci sia superstizione e anche fede nei simboli. Bisogna dire che il problema di fondo è legato a una cosa, che è un tema che può affrontare bene un prete, un sacerdote. Noi abbiamo, tra le figure umane, quella più vicina a Dio, quella che da terrena diventa celeste che è la Madonna, la quale è stata assunta in cielo, il che vuol dire che è l'unico essere umano, per chi crede, con un dogma del 1848, che sta con il corpo in cielo. Quindi la sua apparizione è legata a una identità, la metà strada fra cielo e terra, che la fa apparire in molti luoghi. Lei è, come dire, un'anima beata, ma vagante. E' prima di noi, prima della risurrezione della carne, in questo spazio, che è cielo, ma è una donna, è un essere umano. Quindi appare una volta su un albero, una volta in una grotta, e appare generalmente non a gente come noi, razionale e forse scettica, appare a bambini, a pastorelli, i quali la vedono e comunicano che l'hanno vista. Qua dove sono io, a Paitone, c'è una meravigliosa rappresentazione nel santuario di Moretto da Brescia, in cui si vede una donna bianca bellissima e un bambino, il quale conferma che lei è apparsa, ed è un miracolo riconosciuto, perché era muto e quando ha visto questa figura gli è tornata la voce. Il miracolo è il ritorno della voce, ma Moretto da Brescia, il pittore, la rappresenta come una donna bellissima, vestita di bianco, che cammina e che determina evidentemente uno shock tale che il bambino parla. Ora, è chiaro che una persona come Cacciari, Magris, Umberto Eco, tu, fai fatica a crederci. Brosio è su una posizione, come dire, di maggiore fede in astratto, però neanche a lui appare. La Madonna appare a persone innocenti, sia a Lurda che a Fatima che a Loreto che a Paitone. E quando appare non c'è ragione di dubitare che quella sia fede popolare, con tutto quello che ne consegue, quindi sono molti livelli. Se crediamo al dogma dell'assunta, dobbiamo necessariamente ritenere che la Madonna possa apparire perché è in uno spazio intermedio fra terra e cielo. L'unico essere umano. E lo dico perché voglio fare il teologo. Poi non so, tutto il resto sono evidentemente oggetti memorabili di un momento di estasi, però nessuno vede la Madonna. La vedono per loro pastori, pastorelli, contadini e comunicano. Su questo c'è il dubbio, nonostante che Brosio possa soffrirne, che il Papa ha, lo ha detto, poi non lo ha scritto, su Meggiugorie. E mantiene Meggiugorie per ragioni di fiducia nella fedeltà, nella fede, nella genuinità di quel popolo, ma non nella convinzione profonda che la cosa sia accaduta, che sia avvenuta veramente. Giuseppe Cruciano. Voglio dire una cosa, Vittorio l'ha messa su un piano molto di cultura, filosofico, e l'apparizione della Madonna, che valore hanno, eccetera. Io voglio rispondere alla tua domanda precisa che riguarda il Papa e l'intervento del Papa sull'Urd. Meggiugorie poi un'altra questione. Allora, il Papa parla quando i buoi sono già scappati, questa è la realtà. Cioè il Papa parla dopo che il business ormai è una cosa irreversibile. Ormai tutti questi luoghi, prima di essere luoghi di culto, e io rispetto le persone che vanno lì perché credono, perché pregano. C'è da rispettarle queste persone, però tutti questi luoghi c'è da rispettarle perché è normale che le persone vadano lì perché sperano in qualcosa, sperano in una guarigione, sperano in qualcosa. Questo non è in discussione. Io sono ateo, non ci credo, non ci vado, però rispetto chi ci va. Il problema è che queste robe qui sono diventate solo ed esclusivamente anche da parte degli stessi attori protagonisti delle vicende, sia a Lourdes ma soprattutto a Meggiugorie, dei luoghi di business, dei luoghi dove si fanno quattrini e basta. Questa deve essere una cosa abbastanza chiara. È così. Il Papa e il Vaticano parlano dopo anni in cui, su Lourdes c'è una cosa chiara che mi ha detto Machiavello, autore di quel servizio che abbiamo visto di prima, molto chiara. Ha detto che anni fa, non lo sapevo, la Chiesa, il Vescovo di Lourdes, per mettere a posto la situazione finanziaria, non è che hanno chiamato un prete, non è che hanno chiamato un vescovo, hanno chiamato un manager della Renault, un ex manager della Renault, della Renault, a mettere a posto i conti di Lourdes. Perché evidentemente la questione non è una questione di fede più, non è una questione di apparizioni, non è una questione di guarigioni, è una questione di denaro. Cioè questo è il problema vero che la Chiesa si trova di fronte, che è un problema che non può più affrontare perché come i buoi sono scappati, perché le persone che vanno là, milioni di persone che vanno a Međugorje e a Lourdes, ormai non possono essere fermate. E il Papa, come diceva giustamente Vittorio Primo, ormai non può più farlo, perché se lo fa si rende nemica a milioni di persone, non può più farlo già a diversi problemi Bergoglio. Se si mette contro Međugorje contro Lourdes è finita. A Di Nolfi, la discussione sul tema economico a me sembra davvero un po' surreale. Mi ricorda la discussione che abbiamo fatto quando il Cardinale Lemusiniere è andato a strappare i sigilli e allora la risposta era e perché il Papa non gli dà tutti gli appartamenti che c'è a Roma. Quindi il tema economico che è additabile in ogni aspetto della Chiesa Cattolica, perché esiste l'otto per mille, perché esistono inevitabilmente rispetto a ogni dimensione di socialità degli elementi di business e di mercato che c'entrano dentro. Siamo noi mercanti nel Tempio anche adesso parlando di queste cose, ognuno di noi per il suo interesse specifico. Quindi questo elemento è estremamente, secondo me, poco rilevante se non comprendiamo prima perché milioni di persone vanno là. Perché questo è il nodo. Il problema di Giuseppe è affermare io sono ateo, rispetto chi ci crede, ma in realtà penso che creda in alcune favolette. Sostanzialmente questo mi dice. E allora delle persone imbrogliate da favolette sono fottute dalla Chiesa. Uno vive anche di favolette. Ognuno di noi vive di favolette. Il problema è che il nodo è lì, che non sono favolette. L'URD, questo è il tema, l'URD per chi crede, per chi si proclama cattolico, è un'apparizione certificata dalla Chiesa, non è che si discute se è avvenuto o no. Per chi crede, perché io affermo sempre e ricordo sempre, correggendo l'amico, come aveva detto, Monsignor Sgarbi, il dogma del 48 è l'immacolata concezione. L'assunzione in cielo di Maria è ancora successiva. È del 1950, primo novembre 1950. L'ha fatta Pia XII. È importante per me perché io sono nato a Ferragosto. Per tutti Ferragosto è Ferragosto. Per me è l'assunzione di Maria in cielo. Scusa, Mario, come fai a dire? Il primo novembre si sono sposati i miei genitori. Ora, il dato di fede che io esprimo rispetto a questa cosa è che quella donna, per me, è un elemento di guida della mia esistenza. Non mi è apparsa, non mi parla, ma la sua fisicità, corporeità, in cui io credo c'è l'elemento cruciale per cui milioni di persone vanno all'Ur, milioni di persone vanno all'Ur. Ma come fai a dire che quelle cifre che vedo là? Se elimini questo fattore, questa cosa non ha più nessun senso. Cioè, intorno a una cosa dove ci sono milioni di persone si vendono le immaginette, perché intorno a San Pietro non si vende la statunità di San Pietro. È una cosa diversa. È identico. Allora, se la metti su quel piano non discuto più. Quello su cui voglio discutere con te è perché il rispetto che proclami è in realtà un rispetto peloso, in cui sostanzialmente tu vuoi dire che questi sono coglioni che pensano a cose che non esistono. Quando invece... Non ho mai detto la parola a coglioni. Certo, ma è lì l'elemento cruciale. Perché altrimenti racconti qualcosa che non ha alcun senso. Ma quello di cui si discute... Il fatto di intorno a milioni di persone ci siano dei meccanismi... Riportiamo la questione dov'è. Allora, la questione è molto semplice. Un attimo, Vittorio, scusa. Scusami, Vittorio. La questione è molto semplice. La questione è che han detto anche... Non io, ma anche... Di cui ha parlato anche il Papa, di cui ha parlato... Han parlato anche altri... Eh? Sta parlando al telefono, Vittorio. Sì, sì, va bene, è normale. E non con la chiami e così... No, è la Gelmini, la Gelmini. Mi ha apparsa la Gelmini. Beh, non è una Madonna... Sì. Beh, a modo suo, in un certo senso, apposta. No, e quindi niente, così tu glielo spieghi meglio. Togliete magari l'audio a Sgarbi, perché... Non vorrei che... Non vorrei che... È importantissima la telefonata che sta facendo, ma non è attinente, diciamo. No, la questione è, si potrebbe far tutto questo, senza mettere le bancarelle che vendono Gesù, la Madonna, eccetera, eccetera. Allora, anche tu non a San Pietro puoi togliere i negozi di souvenir, Paolo. Ho capito, ma non è che io... La compensa è in fissa. Scusa, io non è la mia tesi, io non ho tesi su nulla. Io ti dico cos'è in discussione. Quello che dice è che molti sono lì per fare affari piuttosto che per la pratica pastorale. Questo è quello che è stato detto. Quanto è infinitamente più importante capire quello che c'è? Ma non l'ho detto io. qui abbiamo delle testimonianze. La signora alla mia sinistra... Prima di... Scusa, della signora. Mi scuso, signora. Ma perché c'è un sacco di persone. Un attimo solo. Vi faccio vedere, così si va proprio nel mezzo della questione. Questo servizio, esiste un'industria del sacro che dà lavoro a un bel po' di dipendenti. D'accordo? Allora, siccome dà lavoro a molti dipendenti, benvengano statuette, madonnine, eccetera, eccetera, vediamo questo servizio di Alessandra Borgia sul business degli articoli safi e poi sentiamo le signore e quelli che non hanno ancora parlato. Prego. Queste sono alcune componenti, no? Sono dei crocifissi. Croci che possono essere utilizzate come componente, come parte finale del rosario. Quindi si può comprare, si può trovare soltanto questa croce? Sì, sì. A che prezzo? Qui stiamo un euro e cinquanta. Siamo nel cuore della produzione di oggetti sacri che voi fate proprio qui a Loreto. Tra i nostri clienti si annovano appunto i santuari di Lourdes, Fatima, Međugorje, Guadalupe. Quanti ne producete? Dai quindici ai ventimila, con tutte le varianti, le sfaccettature di ogni singolo prodotto. E in argento? No, in metallo. In metallo. Questo che prezzo può fare all'incirca? Qui stiamo sui 60-70 euro. Per fare le croci e altri oggetti bisogna partire da qui. Questo è il cuore dell'azienda, è la falegnameria, dove vengono selezionati i legni e viene preso il cuore, la parte buona, per poi... Per poi poter realizzare quegli oggetti tutti in legno e lavorarlo. Esatto. Quanti operai avete voi? 29-30. Una trentina, insomma. Sì. Ci avvaliamo anche di strumenti, di macchinari, però fondamentalmente la cosa importante che ci contraddistingue è l'artigianalità e quindi la lavorazione a mano e il Cide Parecchio nel prodotto finale. Questo è un porta rosario. È un articolo che negli ultimi anni abbiamo iniziato un po' per scherzo a farle e ci siamo ritrovati ad essere uno degli articoli trainanti della nostra produzione. Può essere anche utilizzato un domani come porta pillole. Qui invece abbiamo tutti i componenti che servono per i rosari. Ultimamente sta diventando anche una moda farsi i rosari fai da te e quindi si compra il filo, la catena e i grani. Però ci sono degli oggetti che possono essere un po' meno tradizionali. Questo è uno strumento che avevamo pensato per stimolare e aiutare le persone alla preghiera e quindi premendo al centro recita un Ave Maria o una preghiera dedicata a San Michele o a San Benedetto. Quelle preghiere che generalmente le sentiamo ma non le sappiamo. Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Solo in italiano? No, può essere registrato nelle varie lingue. Che prezzo ha questo oggetto? Sui 20 euro. Oltre a rosario abbiamo fatto sia il portachiami che anche la calamita da appendere in auto. Sempre recitando una preghiera. L'Ave Maria che possiamo sentire in sottofondo è in portoghese. Ave Maria, sceglia di grazia, il Signore è convosco. C'è anche un'etica dietro l'oggetto quando viene creato e quindi cerchiamo di rispettare sempre i canoni della religione cattolica. Allora, sentiamo un po' questi. La signora alla mia sinistra è Annalisa e accompagna i fedeli a Međugorje e a Lourdes e invece alla mia destra c'è Donatella de Grande che è dell'Associazione Atei. Che impressione ha avuto vedendo questo servizio? L'impressione è che sia un'industria del tutto legittima. Non mi scandalizza assolutamente che ci sia un'industria del sacro. Finché i credenti comprano con i loro soldi non c'è assolutamente problema. Casomai è un credente che si può scandalizzare ma sono questioni etiche interne a questo ambito. Quello che ci può scandalizzare è se per esempio il Papa autorizza i pellegrinaggi a un santuario e vengono usati i soldi dell'8 per 1000 per questo motivo. Questo può coinvolgere la parte non credente della popolazione, ricordiamo che è il 15% degli italiani. io mi sono sentita più volte nella mia vita considerata non una cogliona perché crede come ha detto il dottor Adinolfi ma una cogliona perché non crede perché la sensazione in questo momento in Italia è che gli atei siano confinati in una specie di riserva indiana. Però anche senza le parolacce. Vabbè l'ha detto prima Adinolfi. Ma Adinolfi non è che faccia scuola, lei può esprimersi anche... Dai dai diamo avanti, andiamo avanti. Bene, allora semplicemente questo quindi c'è un 15% di italiani che non credono e quindi sono atei o agnostici che hanno diritto di cittadinanza e che probabilmente in questo momento... Vabbè ma cos'è che toglie il diritto di cittadinanza a questo 15%? Ma per esempio il fatto che le nostre tasse non sono destinate a usi del tutto a usi che sono come dire laici perché l'otto per mille nella sua strutturazione... Vabbè ma l'otto per mille è volontario. E' volontario ma nella sua strutturazione fa in modo che anche chi non effettua una scelta di fatto da soldi alla chiesa cattolica perché il meccanismo è questo. Ci sono anche altri ambiti dall'ora di religione che non è rispettata... Vabbè però non c'entra con... Annalisa Sì buonasera Ma io da accompagnatrice da guida di pellegrinaggio ho sempre visto comunque che il pellegrino non va in questi luoghi per fare uno shopping compulsivo E spinto da altri aspetti molto... E chi strizza il pellegrino Sì molto molto più intimi e il prendere un oggetto per darne testimonianza a casa e questo è legittimo e non è assolutamente coercitivo Certo... Certo... Chiaro... Mi fate sentire Brosio che... Allora Paolo Eccomi Io penso che per esempio per me Međugorje e anche Lourdes sono state delle tappe prima di tutto fondamentali per la mia vita Per la mia anima per cambiare un stile di vita cercare di cambiare stile di vita per avere una risposta a determinate difficoltà, sofferenze personali prima di tutto Poi è diventato anche per me un motivo diciamo di una parte della mia professione per raccontare e scrivere le emozioni che ho visto e i fatti che ho potuto descrivere Io ho assistito a delle guarigioni del cuore incredibili in quel posto mentre in altri luoghi no Io mi interrogherei sul fatto per esempio che questi luoghi la gente va e cambia vita e ci sono delle guarigioni del cuore straordinarie, delle conversioni come si dice e anche delle guarigioni spiegabili che chiaramente non sono la norma ma l'eccezione perché il miracolo è un'eccezione Se no saremo già nel paradiso terrestre dove siamo nella vita eterna anche Lazzaro, Lazzaro è stato risuscitato da Gesù Cristo poi è morto comunque quindi diciamo che in questi luoghi accadono cose straordinarie Questi luoghi sì, altri no perché Dio sceglie questi posti e noi con fede andiamo in questi posti e in questi luoghi ho trovato delle risposte e visto che a Meggiugorje sono andati 46 milioni di pellegrini in 40 anni di apparizioni che non sono ancora riconosciuti ma logicamente Lourdes è 1858 11 febbraio quindi è stata riconosciuta dopo tanti anni Meggiugorje sta facendo il suo corso però è dai frutti che si vedono diciamo la bontà di questi luoghi quindi se 6 milioni di persone vanno a Lourdes perché trovano delle risposte nella vita che da altre parti non hanno trovato e 3 milioni vanno a Meggiugorje è logico che questa gente dovrà mangiare, dormire e comprarsi un rosario io ho questo rosario qui che è il mio rosario che ho in tasca o se con me con la croce di San Benedetto delle volte lo perdo, delle volte lo regalo dei malati perché magari durante la presunta apparizione la Madonna l'ha benedetto e porta a sollievo la sofferenza di una persona malata io lo regalo col cuore, è un atto di fede eccolo qua, è un rosario fatto di legno di ulivo, c'è l'immagine della Madonna, c'è la croce di San Benedetto che è la croce che viene usata dagli esorcisti, dai sacerdoti che hanno mandato dal vescovo per gli esorcisti e lo tengo con me come atto di fede però perché bisogna diciamo andare a vedere se questo è un business o è una cosa che fa bene per me fa bene, poi se si esagera con le tariffe forse il Papa fa bene a dare una regolata però sono luoghi dove avvengano doni straordinari, prima di tutto le guarigioni del cuore la gente cambia vita e comincia a pregare un'altra cosa che è sembrata diciamo strana, di cui si è discusso è che le operazioni a Međugorje siano calendarizzate cioè si sanno i giorni in cui appare la Madonna questo accadeva il 2 giugno scorso, guardiamo Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Silenzio Don Patrizio che effetto deve far vedere queste cose? Ma finalmente il Papa ha preso una posizione netta perché deve finire questa vergognosa situazione mercimonia e di commercio che si fa non contraddico a quello che hanno detto che Lourdes e Međugorje siano il posto della conversione e non condanno nemmeno chi vende ma condanno la Chiesa che vende certe situazioni perché non è così che si dimostra la fede e la conversione perché lo stesso Mario che parla di fede e poi usa delle parole che non sono degne di un cristiano non è giusto non diamo testimonianza di quella che è la nostra fede noi dobbiamo avere il coraggio di poter dire sì, sì, no, no dinanzi a queste situazioni che sono abominevoli perché anche il Papa dice di non vendere i sacramenti e comunque si vendono comunque si prendono le offerte cioè dice e basta non se ne può più per far dire una messa c'è una tariffa no, ci sono delle parrocchie e per fare un matrimonio si prendono mille euro cinquecento euro questo è vergognoso è vergognoso finalmente va il cuore caro Mario è così mi dispiace noi dobbiamo dimostrare la nostra fede al cento per cento sì, sì, Paolo sentiamo Brozio scusate no, non serve nel populismo non dobbiamo dire sì, sì no, no non c'è bisogno di trovare sempre le strade per la fine apparata scusa, eh uno per volta a Mezzugorio una roba del genere non esiste non esiste non esiste non esiste un tariffario a Mezzugorio no, no, esiste tu dice che non esiste anche a Mezzugorio esiste no perché la Madonna che appara con i due signori che dici tu no, no, scusa aspetta aspetta che ce ne è anche per te aspetta cominciamo a andare a vedere allora che in tante chiese italiane non c'è una sola persona che va in chiesa i frati francescani minori non hanno un tariffario tu parla di conversione ma che conversione se scavarchi dei posti scavarchi dei posti per superare le persone e per andarti a sedere quale conversione è questa? quale conversione? ma che dice? la conversione è tutta un'altra cosa ma che dice? ma che dice? sentiamo sentiamo un rogio sentiamo un rogio i frati francescani minori i frati francescani minori a Mezzugorio non hanno nessun tariffario e il nuovo vescovo che ha mandato come inviato speciale della Santa Sede Papa Francesco proprio il Papa ha stabilito che a Mezzugorio la pastorale è corretta punto non è entrato nel merito delle apparizioni ma non c'è nessuna illegalità l'ha detto il vescovo Enric Oger quindi diamo sede a quello che dice il vescovo mandato dal Papa è giusto che sia un luogo di fede un luogo di convenzione non c'è niente da dire io sono d'accordo con te sono d'accordo con te sono d'accordo con te sono solo una cosa ma ascoltami sono solo una cosa che a Lurde non lo so perché io sono andato diverse volte a Lurde ma non è che io vado a spendere queste persone hanno casa ville soldi ma come se ne sono fatte queste cose sentiamo come se ne sono fatti queste cose sentiamo Pippo Franco che è un devoto ma che ville ma quali ville non c'è nessuna ville aspetta Paolo c'è una veggente che si è fatta all'albergo Paolo una delle veggenti c'è un albergo si arriva arriva all'albergo vencete arriva ci hanno pensioni da 20 camere con i parenti mi vorrei convertire anche io ai soldi mi vorrei convertire aspetta un attimo la dobbiamo smettere con sta roba perché devono morire di fame dobbiamo vedere i veggenti ho capito ma non devono nemmeno farsi gli alberghi loro però se sono veggenti sono veggenti non è che fanno l'albergatrice dai hanno delle pensioni ma ho capito ma che fanno gli albergatori o i leggenti Paolo e pregano e fanno una vita di santità ma facciamola finita scusami Paolo ma scusami Paolo Cruciani ha di pazienza Paolo Giuseppe quante volte sei andato tu a Meggiugori quante volte sei andato a Meggiugori ma lascia perdere le cose si stanno a prescindere ma la conversione mica si deve andare per forza a Meggiugori vai a vedere in qualsiasi parrocco io a Meggiugori vai a vedere mi fate sentire va bene a che c'entra scusa un attimo Pippo Franco se no scusami un attimo prego dai se no qui mi rompono forza vuole vuole rispondere a analizzazione a tutti le fobie ecco io voglio dire questo perché costo business e fa la guida i pellegrini io porto i pellegrini perché lì ho visto grandi conversioni come gesto scusi come gesto di generosità lo fa a pagamento no allora a pagamento quando si fa un pellegrinaggio di 5 giorni a 220 230 euro sicuramente non si fa business perché c'è l'albergo perché c'è il viaggio voglio dire anche sui veggenti perché questa storia dei veggenti che hanno fatto i soldi e nessuno è mai stato a vedere realmente cosa c'è ma li avete mai visti gli alberghi dei veggenti scusate voglio dire anche un'altra cosa i genitori scusa parlo io un attimo un attimo perché i genitori di Ivan il veggente vivono ancora nella loro povera casa ma prima di parlare andate pensate ai vostri di business attenzione prima di parlare anche su quello che si vende a Meggiugorie dove si trovano delle corone del rosario a 50 centesimi dove si trovano degli alberghi che costano così poco nessuno di loro se ne sta approfittando la gente deve vivere e mangiare oppure deve espatriare come facevano prima dacci oggi il nostro pane quotidiano dice il nostro signore vuol dire che la Madonna gli ha creato anche questa situazione beh insomma adesso sì sull'urdo sì la Madonna che è business allora scusate perché noi preghiamo per avere il lavoro tanto vale non pregare va bene chi non crede è una cosa va bene ognuno 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 la preghiera la può fare anche nella sua parrocchia senta non è questo il discorso ci sono persone che arrivano a Meggiugorie cambiano la vita a te certo uno è questo per esempio sono d'accordo che cambiano la vita cosa c'entra questa antica aspetta aspettate un attimo mi fate sentire poi arrivo da Pippo Franco e me ne scuso mi fate sentire la signora che è accanto a Poletti prego sì è la signora Annarella Vanoni che sostiene di aver visto la Madonna ah però però ce la deve dire bene allora guarda Paolo guardi Paolo come è attento si è messo a vista di noi ti ha visto la Madonna allora due mesi prima di Pasqua quest'anno quest'anno vedi recente quindi sono stata chiamata sono stata chiamata io e mia figlia siamo partiti siamo andati chiamata una chiamata una cosa dentro che dovevo andare dovevo andare abbiamo anche i telefoni noi lo so cioè lei ha sentito aspetta voglio capire bene lei ha sentito dentro questa esigenza di andare dove a Maggiugori a Maggiugori benissimo e siamo partite siamo partite siamo arrivate anche la figlia ha visto la Madonna si è vicina anche lei così da una mano siamo arrivate salivo il monte e la Madonna mi ha detto che mia figlia ha uno studio e la Madonna mi ha detto ogni 24 del mese dovrei dire un rosario dove lei ha lo studio ci saranno poche persone e poi ne arriveranno tante e io ho detto va bene arrivo in alto mi dice prendi una pietra un sasso e io dico un sasso e vabbè io guardo e dico ma che sasso sono tutte pietre così e poi dico ce n'era uno l'ho preso l'ho messo in borsa che mi sono quasi sentita male perché dicevo porto via qualcosa però l'ho messo nel scendere dicevo questo sasso lo metterò dove ha il suo studio ma che studio ha sua figlia scusi perché allora mia figlia ha una sensitiva potete ridere come volete no nessuno ha riso però poteva essere uno studio notarile uno studio ma non è che state facendo ma scusi la Madonna la Madonna si è occupata dello studio di una sensitiva mi ha detto questo creda creda non mi ha detto questo sono perplesso signore alla allora poi vabbè andiamo ma con questa pietra che ci ha fatto questa pietra che io non capivo l'ho capito tornando a casa che i sassi sono cinque per cui io per quattro volte dovrò ritornarci i sassi i sassi i sassi che vogliono dire tenere lontano il demonio questo e questo chi gliel'ha detto a lei è scritto perché sono andata a vedere uno è per il rosario però le posso Paolo ma dove questi cinque sassi cioè mi pare un po' un casino capito no no non è un casino la Madonna l'abbiamo vista a Pasqua un'ora prima mia figlia l'ha vista dalla finestra dell'albergo che ha visto ha visto questa Madonna in una nuvola dove ha fatto vedere a lei diverse cose e mi ha chiamato e ho visto la Madonna anch'io vabbè vabbè da quel momento in poi lo studio di sensitiva è esploso diciamo non esploso nulla assolutamente ok la Madonna io l'ho vista mi ha lasciato un dono si dice il dono così poi passiamo ad altro io il dono ce l'ho nelle mani eh beh però dai cioè nelle mani cosa nelle mani io ho visto la Madonna non sono stata la sola ad averla vista ok ci sono state altre persone però lei sa che cioè scusi lei dicendo ste cose si assume una responsabilità io mi assumo la responsabilità no ma non la responsabilità in generale voglio dire se no voglio dire se io sono stata malissimo si ho capito ma io questo anche io sono stato malissimo domenica mi sono fratturato un dito da un piede ma che c'entra la Madonna cioè vabbè d'accordo ho capito insomma lei perché siete andate lei e la sua mamma ha sentito che la Madonna la chiamava siete andate a Medjugorje Medjugorje gli ha detto ascolta che lo studio di mia figlia e sua figlia le posso far accomodare come sensitiva scusi che fa da sensitiva ecco adesso l'ha incuriosito che fa da sensitiva io sento quello che ha si avvicini no no stia lì stia lì che io ho paura eh e allora no 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 per carità di Dio stia lì stia lì che fa come sensitiva io sento le cose che hanno le persone con le mani sento ah no le cura anche io le cura ci sono i dottori ah ecco ok allora Paolo posso dire una cosa non c'è da aver paura perché il bene ah io ho paura il bene no il bene non è un male io mi impaurisco di nulla ok e se ho e se ho un dono è grazie alla Madonna poi ci fa ti sta puntando il piede Paolo ti sta puntando il piede cioè punta il tuo piede va bene va bene insomma lei lei la pensa così va bene però non si può vendere un lavoro da sensitiva dicendo che ha avuto il regalo dalla Madonna sulle mani perché questa si chiama truffa questa si chiama truffa non è assolutamente nessuna truffa no assolutamente scusi signora allora gliela dico più chiara io di come gliela ha detta Cruciano il problema è questo qui c'è gente che ci crede esatto veramente nella Madonna e magari sono persone diciamo molto umili molto che ho pregata tantissimo che è una ragazza che è disabita al 100% l'ho pregata tanto sono 65 anni e non ho riuscito mai a vederla voi andate sentite chiamate andate vedete ma com'è possibile ma perché prendete in giro la gente perché prendete in giro la gente la gente che crede Mario questo succede no ma la cosa grave no lasciatemi dire una cosa però a quelli che ci vedono a casa la cosa grave signora è questa qua che lei fa la sensità e zitti la cosa grave è che lei fa la sensitiva e vuole utilizzare questa storia della Madonna e ho capito se lo viene a dire in televisione se no stava a casa lei vuole utilizzare questa cosa per far venire gente nel suo studio dai va bene comunque lei faccia come vuole e poi dopo va bene allora io volevo sentire Pippo Franco lui è un oh che c'è allora qual è la tua esperienza invece ma l'esperienza di questa sera è straordinaria nel senso che io dopo tutte le cose tragiche delle quali che hai messo in onda questa sera speravo che la Madonna in qualche modo lenisse tutti i drammi quindi non lenisce nulla dei quali abbiamo parlato prima poi seguendo seguendo anche l'andamento di come sono andate le cose qua stasera altrettanto straordinarie imprevedibili ti confesso io poi parlo per me per le mie certo per te per la mia esperienza chiaro a questo punto non ho più capito di che cosa stiamo parlando per cui se tu mi fai per cortesia una domanda un po' più pertinente conoscendomi un po' per quello che è forse posso risponderti perché qui siamo in un mare magnum di argomenti nei quali sto affogando e siccome il mare è sempre in tempesta no ti salvo no sta a noi stabilire se annegare galleggiare io vorrei imparare a nuotare io vorrei imparare a nuotare fammi la domanda di riserva per favore la domanda di riserva è fa il furbo ma hai capito la domanda di riserva è questa come sta caro Pippo Franco tutto a posto bene alla grande grazie no la domanda è siccome tu hai un'esperienza da fedele diciamo d'accordo hai una pietà nei confronti di questa di questa dimensione della vita eccetera che tra l'altro c'è una storia su questa tua personale allora siccome noi qui si parla di questo questi luoghi che sono luoghi dove si dice sia apparsa la madonna e che la gente va lì per questo spesso molte persone che girano intorno a questi luoghi sfruttano questo è il punto che vogliamo sfruttano questa buona fede delle persone per fare del business che diciamo c'entra poco con questo siccome tu li hai visitati questi luoghi qual è la tua esperienza? io chiedo scusa sempre per la mia personale posizione non voglio convincere nessuno ed è come dire non è facile esprimersi però per me io parto da un altro concetto sì io parto dal concetto della fede e vivo la preghiera e non vivo soltanto questi luoghi ma vivo le parrocchie vivo tutti i posti dove posso andare quindi devo confessare che questo argomento al di fuori della preghiera e vorrei anche magari dare un imprimaturo perlomeno partire con il concetto di preghiera così forse capiamo meglio una preghiera che mi illumina sempre molto dalla quale non mi allontano mai breve molto breve che ha fatto ho scritto come anticipo su un libro che ho scritto che si chiama La morte non esiste che è la mia vita oltre i confini della vita cioè la fede è una preghiera di Santo Maso Moro che dice testualmente e illumina la mia esistenza mi guida Signore Dio nostro dammi la volontà di accettare le cose che non posso cambiare la forza e il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di comprenderne la differenza è una cosa dalla quale non mi allontano mai perché poi è tutto diciamo il mio stile di vita sono un uomo di fede mi baso sulla preghiera ho fatto tante esperienze e non so esprimere un giudizio su una cosa diversa da questa per me quella che conta è la fede quello che conta è la preghiera questo argomento non sta a me discuterne l'argomento della mercificazione mi pare che sia estremamente diffuso perché lo vediamo veramente dappertutto ed è certamente un problema che va affrontato ma tu hai visitato questi luoghi Međugorje Lourdes qual è la tua esperienza di visita di questi luoghi la mia esperienza è seppur sempre un'esperienza io non ci sono stato a Međugorje tu mi dovessi dire guarda Paolo sono stato lì e ho e raccontarmela questa cosa cosa mi diresti ti direi ti faccio un esempio che forse il più semplice ho partecipato ad una di queste apparizioni di Miriana una mattina e stavo lì eccezionalmente seduto in quei posti mi ci aveva portato un sacerdote insomma era già previsto che io stessi vicino a quella croce azzurra appunto in quel monte ovviamente io vado con fede vado per pregare e ho visto Miriana lì comincia a pregare quando tace come si è visto nell'immagine vuol dire che ha la visione Maria un'altra veggente mi ha raccontato che quando si hanno queste visioni si entra in una dimensione dove scompare tutto dove scompare il sospitto scompare tutto si entra in un'altra dimensione difficile a capirsi per noi l'umano non credo che possa in qualche modo esprimerla ma la cosa che ho notato è che quando lei ricomincia a pregare e ha ricominciato e si è ripresa ha ricominciato a pregare si sentiva male è stata addirittura avuto un mancamento tanto che io mi sono dovuto alzare per farla sedere nel mio posto perché nessuno si alzava e dopo un po' si è ripresa e ho tradotto tutto questo con quando si entra in un'altra dimensione che è fatta non so definirla differentemente che è fatta di misericordia divina di quella misericordia della quale noi abbiamo sostanziale vitale bisogno forse si entra in un luogo di purezza e di grandezza che noi non siamo in grado di reggere e per cui lei si è sentita proprio male perché si rientra nel luogo della vita dove si muore dove la vita non è altro che una guerra fra il bene e il male ho capito Giuseppe che effetto ti fa sentire questo racconto io voglio dire Pippo la mette su un piano che è difficile da contestare perché la mette su un piano che è quello della fede è l'esperienza di Dio che lo fa parlare così no ma la mette sul piano della fede la mette sul piano dell'esperienza personale che ha avuto con queste gente e non solo è difficile contestare la fede di Pippo è un'esperienza personale dunque non si occupa di tutto quello che c'è dietro che invece per me è estremamente interessante prima qualcuno diceva no non è importante non è importante notare come questa Maria o come questa come è che si chiama l'altra Miriana che interessa se hanno degli alberghi che interessa se un'altra Ivanca hanno dei negozi di gioielli o dei negozi di souvenir secondo me le veggenti o fanno le veggenti o fanno il business o fanno il commercio questo è importante capire perché se crolla se crolla perché siccome ci sono 47 mila apparizioni non c'è nessun negozio di gioielli il tempo fa l'arcivescovo di Mostar ha detto che queste 47 mila apparizioni di Međugorje sono false sono false non è che l'ha detto Cruciani infatti non c'è più infatti non ha più la pastorale ho capito Giuseppe scusami se ti interrompo cioè il Papa praticamente l'ha estromesso perché ha chiamato l'arcivesco ho capito di Varsavia Henry Coser lui che comanda Međugorje quindi questo è uno schiaffo al vescovo di Mostar che per 40 anni ha detto tutto falso poi viene fuori dai verbali del KGB della Udba che aveva delle connuvenze delle corruzioni con il sistema politico l'ha detto un anno fa non è che l'ha detto non c'è più la Stato è stato estromesso il vescovo di Mostar non ha più competenza su Međugorje è un acidescovo non l'ultimo dei passanti mi viene a dire e dentro la chiesa c'è tutta una corrente che sostiene che queste 47.000 apparizioni sono false non è che lo dice un ateo non lo dice un laico lo dice una corrente all'interno della chiesa lo stesso Papa è stato mandato a casa non c'è più l'hanno mandato via la competenza del vescovo di Varsavia che ora comanda lui a Međugorje ho capito ma non c'è ancora il timbro della chiesa su queste robe qui non c'è il timbro della chiesa queste cose qui però il vescovo di Oser dice esattamente l'opposto quindi vuol dire che è uno smacco enorme per il vescovo di io se fossi il vescovo di Mostar che ho competenza su Međugorje chi va a Međugorje lasciamo perdere queste divisioni un santuario dove 3 milioni di persone vanno a pregare lasciamo perdere queste divisioni le divisioni le divisioni all'interno della chiesa non interessano nessuno delle persone che stanno ascoltando quello che interessa è che ci vorrebbe una sceltezza se le persone vanno lì se le persone vanno lì devono credere che queste signore abbiano delle apparizioni da parte della Madonna siccome c'è una parte della chiesa che è scettica quella roba lì a me appare più una truffa che una realtà questo è abbastanza evidente mi piace l'argomento Giuseppe però ci vuole una certezza ci vuole una certezza io per esempio ho un simbolo ad alcuni dati che sono oggettivamente per sempre certi io credo in un uomo che è risorto perché dammi la certezza ci sarà un motivo l'argomento non è questo il tema è se questo tipo di ragionamento serve poi a costruire la posizione che ho ascoltato di chi dice ma perché io devo dare l'otto per mille alla chiesa perché questo è il punto io sono molto attento e preoccupato dall'idea di chi dice qui c'è tutto un grande magna magna perché questo è diciamo a stringere il concetto che è vero tantissimi uomini di chiesa non ci credono a Meggiugorio io penso che se chiedo a Don Patrizio Don Patrizio non ci crede ed è legittimo tantissimi quando pianse la Madonna di Civitavecchia Monsignor Grillo perfetto Monsignor Grillo era il più razionale dei razionalisti gli portarono il rapporto sulla Madonna di Civitavecchia lo gettò via sprezzante perché riceveva in un senso proprio robe dozzinali poi prese la Madonna di Civitavecchia in mano si è ricreduto e gli avrebbe un infarto quasi in quel momento andate a leggere cosa scrisse dopo davanti a 5 testimoni cosa disse dopo davanti a 5 testimoni la dimensione di fede è una dimensione di fede caro Giuseppe in cui la certezza non ce la posso dare la certezza non esiste è un'offesa ai credenti è un'offesa ai credenti il punto è capire solo il business di Međugorje è uno c'è da chi fede Međugorje è un bene o è un male Međugorje è più grande è un luogo di fede del mondo è un sacro santo bene per l'umanità tutta intera e che dobbiamo dire grazie a Maria Verdi madre di Dio perché siamo dentro a questa follia ma perché vuoi chiedere certezza quando io vedo Maria per voi c'è una donna che sta lì limitata e mortale che è madre di un Dio chiedo al conduttore che si è laureato all'università della Santa Croce ma perché non appare a Papa quale follia è questa vogliamo chiedere certezza ma perché non appare a Papa rispetto al fatto che Dio è stato generato da una donna limitata e mortale perché non appare a Papa la certezza Giuseppe non te la posso dare posso solo dire Meggiugorie è un bene per questa terra o è un male io ti dico che è evidentemente fotografia di un bene e chi lo nega sta negando un'evidenza ma no scusa ma noi siamo d'accordo su quello che dici tu ma tu sei uno che dice ah la chiesa qua la chiesa là e con le parolacce grazie a Dio Gesù andava con le prostitute a pranzo e a cena e sapeva chi si accompagnava attento donna io porto rispetto ma se tu ti metti a fare il populista poi quella signora là ti dice perché ti devo pagare lo spedio con l'otto per lì scusa quella signora là te lo vieni stia al suo posto perché non appare a Papa scusate un attimo che c'è uno nel tuo ma che dici che Gesù non scende dalla corsa questa è la domanda perché Gesù non è sceso dalla corsa perché non si è salvato che domanda è che domanda che senso ha fermi non mettiamo in dubbio la conversione scendi dalla croce salvati se sei Gesù chi sei il centurione romano appare a quattro signori scendi dalla croce allora scusa il signore si presenta come un ex dissoluto convertito andiamo prima sul dissoluto in che senso tengo io in che senso era dissoluto allora dissoluto in che senso che io non andavo dai cartomanti andavo dai maghi io personalmente frequentavo operatori dell'occulto facevo le preghiere il 31 di ottobre quelle dell'auli io e lo dico a tutti fate molta attenzione a quello che vi dico e che facevo ecco devo bestemmiavo diciamo tante bestemmie dalla mattina alla sera ero sempre odioso poi io faccio un lavoro un pochino particolare quindi lavoro nel carcere quindi ero sempre nervoso sempre con questo con questo odio verso il prossimo verso gli altri poi e che è successo è successo che in poche parole vi dico anche un'altra cosa vado alla Madonna di Lourdes perché io non credevo andavo sempre da turista perché non sentivo questa giochi dell'amore di Dio l'amore della mamma da padre mio ho fatto il viottolo perché tanto ero turista è successo che vado alla Madonna di Lourdes quando tocco alla grotta c'era la gente a fianco a me che stava male che stava male con la carrozzina e io mi raccomando alla Madonna Dio madre fammi prendere questi soldi perché io pensavo che era come la fortuna quindi chiedo scusa alla mamma che sta nel cielo per quello che ho fatto perché sto veramente vergognoso che faccio torno a casa prendo un volantino ho fatto tanti debiti tanti soldi non 100.000 euro tanti non ho fatti dei debiti e andavo sempre in giro con un macchinone BMW 50-60 ma poi che è successo? che è successo questo? sto che prendo un volantino un volantino di Annalisa Colzi e andiamo possiamo andare alla parte in cui ecco sì lo dico subito andiamo al arriviamo al dunque e niente andiamo all'apparizione il giorno 2 del mese del 2013 ricordo benissimo vado lì alle 6.30 partiamo per questa apparizione se me fa l'orario però arrivi al arriviamo al dunque e mentre c'era l'apparizione sento un silenzio e io sinceramente sento una grande gioia una grande gioia che Gesù mi ha dato questo grande dono una grande gioia che non posso descrivere un amore immenso una gioia grande piangevo una donna a fianco a me dice che cosa fai piangi e mi dite un fazzoletto mi asciugo e io in tasca avevo un talismano che questo cartomante mi aveva dato era il pentacolo delle 5 stelle del demonio torno nel albergo piangevo prendo questo talismano lo avvolgo con la carta igienica e lo butto nel water da lì è cambiata la mia vita io devo ringraziare tre persone lo dico a tutto il mondo andrei sull'Everest e dire che la mamma mi ha salvato tre persone la madonna che mi ha salvato la vita perché ho visto la luce perché io prima andavo facevo quello che vi ho detto la seconda è la moglie che mi ha buttato fuori da casa perché ha pregato per me e la terza è lei che mi ha portato a Meggiocoria e adesso io aiuto le persone come lo sta facendo lei ad andare a Meggiocoria quindi ringrazio Dio e condivido quello che dice il sacerdote che la madonna sta a Meggiocoria ma sta in tutte le parrocchie in effetti vi vado a messa prego perfetto i debiti li ha pagati i debiti non li ho pagati ma sono felice perché ho trovato la perla che è nel cielo brava questa è la cosa essenziale ho trovato la perla che è nel cielo questa è la cosa essenziale i debiti vi posso garantire che ce n'ho tanti ancora questa è la cosa essenziale la tua esperienza con Dio e con la madonna le chiedo scusa mi possono togliere tutto ma non mi toglieranno mai l'amore di Dio andiamo in pubblicità